Notizie bomba nell'edizione odiana di TG Tech, passiamo subito ai titoli. La notizia del giorno è sicuramente la chiusura del network Mega Upload, l'approfondimento di Alessandro. Gente, è finita la pacchia, almeno per un po'. L'FBI, in seguito a un'operazione internazionale, ha chiuso Mega Upload che aveva sede a Hong Kong. Ricordiamo brevemente che il sito permetteva agli utenti di caricare qualsiasi tipo di file, ma il servizio è diventato famoso soprattutto per lo streaming. L'operazione ha condotto l'arresto di Kim Schmitz, una figura quantomeno controversa che nel passato si è macchiato di alcuni reati, tra cui la sottrazione di carte di credito e altre cosette interessanti. La reazione della rete non si è fatta attendere con proteste sui vari social network e anche da attacchi ai condotti da Anonymous nei confronti di alcuni enti governativi statunitensi. Cosa succederà adesso? Ma sicuramente arriverà qualcos'altro che farà le stesse cose. Invitiamo chi l'ha presa davvero male a osservare 72 minuti di silenzio in segno di lutto. Ieri invece Andrea ha seguito per noi gli annunci Apple nel mondo educational. Nella cornice del Guggenheim Museum di New York, Apple ha presentato tre novità riguardanti il mondo della didattica e dell'istruzione. La prima è iBooks 2, un aggiornamento dell'applicazione già presente su iPad per la fruizione di libri digitali, che supporta ora anche i libri di testo scolastici. Gli studenti potranno così ora fare esperienza di una formazione più coinvolgente ed interattiva, grazie alle potenzialità offerte dal mezzo digitale. Animazioni, video, modelli tridimensionali sono solo alcune delle nuove funzionalità offerte da iBooks 2 e pensate espressamente per gli studenti. Assieme ad iBooks 2, la me l'ha presentato anche iBooks Author, un'applicazione per Mac OS X che permette a chiunque di realizzare libri per iPad. Non solamente libri di testo, ma anche romanzi e quant'altro la fantasia e l'inventiva possano suggerire. Tutto avviene mediante drag and drop, con il programma che si occuperà di impaginare automaticamente i contenuti in base al layout di pagina scelto. L'autore potrà poi inviare la sua doppera ad iBook Store per l'approvazione e la successiva vendita. Infine Apple ha presentato la nuova applicazione iTunes U per iPad, tramite la quale gli insegnanti dei collegi americani potranno mettere a disposizione degli studenti i materiali dei corsi, assegnare compiti, comunicare aggiornamenti e orari di ricevimento. Tutte e tre le applicazioni presentate da Apple sono già disponibili per il download gratuito. L'appuntamento dal laboratorio con Gabriele analizza i requisiti tecnici per Windows 8 su tablet. Attraverso una pubblicazione sul sito ufficiale di Microsoft, l'azienda di Redmond ha presentato alcuni dei requisiti hardware di Windows 8 per funzionare sui sistemi tablet. Ecco allora che i dispositivi con interfaccia touchscreen dovranno presentare un digitizer in grado di riconoscere almeno cinque punti di tocco, mentre il display dovrà essere in grado di garantire una risoluzione di almeno 1366x768 pixel. La cornice, inoltre, non dovrà essere inferiore ai 20 mm, cioè 2 cm. La documentazione, inoltre, richiede la presenza di cinque pulsanti, quello di accensione e spegnimento, quello di Windows, il tasto di controllo per il volume e il Rotation Lock. Ogni tablet, inoltre, dovrà presentare una connessione USB 2.0. Parlando però di Windows e di PC, quanti di voi non hanno mai sperimentato questo tipo di esperienza? E se buona parte della frustrazione veniva scatenata sulla tastiera, Microsoft adesso ci offre la soluzione anche per i tablet. Per avere una funzione equivalente a quella famosa di Control Alcance, in questo caso sarà sufficiente premere il tasto Windows e quello di accensione. Ma darà la stessa soddisfazione? Ma no! La notizia era nell'area da tempo, ma ora è ufficiale. Kodak ha dichiarato bancarotta. Kodak Eastman Company ha deciso di avvalersi della protezione e dell'amministrazione controllata garantiti dal Chapter 11 della legge fallimentare statunitense. Al contrario del Chapter 7, il Chapter 11 è una procedura di amministrazione controllata che sta finalizzata la ristrutturazione aziendale. Grazie a un prestito di 950 milioni di dollari da parte di Citigroup, Kodak punta a rilanciare il suo business entro 18 mesi. Le sedie europee, anche quella italiana quindi, hanno fatto sapere che le società controllate al di fuori del territorio americano non sono soggette alla legislazione menzionata e continueranno il loro business in modo ordinario. Giri! Piri! Giri! Giri Kodak! A partire da ieri e progressivamente nelle prossime due settimane, Nokia renderà disponibile il secondo aggiornamento o firmware per il suo Nokia Lumia 800. Il nuovo update promette di migliorare la durata della batteria e la connettività Wi-Fi. In particolare, il primo aspetto aveva lasciato delusi molti utenti della prima ora. Chiudiamo con il consueto appuntamento con i videogiochi. Rockstar Games ha modificato la data di rilascio di Max Payne 3. Se prima era previsto per il mese di marzo, adesso il rilascio è fissato per il 18 maggio su console e per l'1 giugno su PC. Secondo il produttore Take Two, l'uscita è stata posticipata per garantire la qualità. Come dimostra l'ultimo video di Max Payne 3, in qualsiasi momento il personaggio interpretato mantiene la mira a 360 gradi e ciò succede anche quando è in posizione prona o quando corre all'indietro. La mira viene mantenuta costantemente mentre Max riposiziona la parte superiore del corpo e il busto verso il bersaglio. Max Payne 3, basato sulle tecnologie Rage e Euphoria e per la prima volta nella serie introduce una componente multiplayer basata su ricompense e sblocchi. Tutte le informazioni sul gioco si trovano nell'anteprima e negli altri contenuti pubblicati su GameMag. Termina qui anche questa prima edizione ordinaria dell'anno di TG Tech. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento con il telegiornale del network di Hardware Upgrade. Grazie. Grazie. Grazie.